4.807 metri sul livello del mare. Con questa altitudine il Monte Bianco è considerato la cima più elevata d'Italia ed Europa. Posto sul confine tra la Valle d'Aoste e la Savoia, tra l'Italia e la Francia, questo complesso granitico è una delle più importanti attrazioni naturalistiche del nostro continente. Ma oltre al primato dell'altezza, questa montagna, ben visibile dal fronte francese e invece più nascosta se la si cerca dal confine italiano, è stata anche la prima vetta a essere scalata fino in punta. L'impresa, che decretò tra l'altro anche la nascita dell'alpinismo, venne portata a termine l'8 agosto 1786 da due ragazzi valdostani, Jacques Balmain, un cercatore di cristalli che all'epoca aveva 24 anni, e Michel Gabriel Pacquart, 29 anni, medico e botanico. A spingerli in questa avventura era Horace Benedict de Saussure, uno scienziato svizzero che ammirava il Monte Bianco dalla sua residenza ginevrina e sognava un giorno di poterla raggiungere, cosa che effettivamente fece nel 1787, un anno dopo la prima scalata. Queste terre di primati montanari ne hanno anche uno gastronomico. I pascoli della Valle d'Aosta, infatti, ospitano una delle produzioni di formaggio in quota più importanti al mondo, quella della Fontina. Un formaggio grasso a pasta semicotta, prodotto con il latte di una sola mungitura, che nella sua versione più caratteristica proviene da mucche di razza pezzata rossa e nera, che stanno durante il periodo estivo su prati a oltre 2000 metri di altitudine. E sono le essenze, i fiori, le erbe che si trovano in questi campi a profumare questo formaggio, che grazie alla sua grassezza si scioglie in bocca, sprigionando note di burro fuso e di prato. Un boccone non certo delicato, anzi, ma che proprio per questo probabilmente è diventato irrinunciabile per tanti appassionati di prodotti caseari. Ed è proprio questa facilità nel fondere che avrebbe ispirato all'inizio del XVIII secolo il termine fontina, con il quale da allora chiamiamo queste grandi ruote dalla crosta rossastra che possono arrivare a pesare anche 9 kg l'una. Ed è grazie a questa sua peculiarità che la fontina è diventata l'ingrediente centrale irrinunciabile di diverse preparazioni locali e non. Le due più famose sono certamente la zuppa alla Valpellenense, cucinata con brodo, cavolo verza, pane integrale e ovviamente fontina, e poi la fonduta. Una preparazione che solo a nominarla fa venire la collina in bocca e che evoca immediatamente sere invernali e tavolate di amici che felici intingono pezzi di pane abbrustolito in una pentola centrale dove fumante si trova lei questa crema saporita e ricca. Ma come si fa? Andiamo a vederlo. Innanzitutto bisogna tagliare la fontina a piccoli pezzi e lasciarli in ammollo nel latte per almeno una notte. Il giorno successivo si scola grossolanamente la fontina e la si mette in un tegame, solitamente di terracotta, adatto alla cottura a bagnomaria. Si aggiunge il burro e si mette in cottura. A questo punto c'è la necessità di un ingrediente che non si può acquistare, la pazienza. Si deve continuare a mescolare e bisogna aspettare prima che la fontina fonda, assumendo una struttura filante e compatta e poi che questa si disfi completamente fino a diventare una crema. E questo è il momento di incorporare i tuorli d'uovo. Uno ogni 100 g di formaggio, continuando a mescolare delicatamente e continuando a tenere la fonduta al caldo. Nel giro di pochi minuti la crema, fino a quel momento piuttosto liquida, inizierà ad assumere un aspetto più ricco e velutato. Muovete a bagnomaria per pochi istanti e poi togliete dal bagnomaria. Regolate di sale e pepe e mettete al centro del tavolo tenendo in caldo con una candela.